Quando abbiamo sopputo dell'arrivo di Papa Piano del Caccia c'è stato grande gioia, grande stupore e da parte mia c'è stata la consapevolezza che fosse un dono straordinario, anche il fatto di scegliere un periodo piuttosto ampio, un tempo piuttosto ampio per dare tempo alla vita del Caccia, è stata davvero una consapevolezza, una gratitudine, un desiderio di essere presenti. C'è stata da parte poi dei detenuti subito grande euforia, grande desiderio di poter pensare quell'incontro, di poter esserci, di poter fare qualcosa attraverso dei piccoli gesti, una lettera, un piccolo lavoretto, un piccolo regalo che è stato preparato. Una delle cose che abbiamo pensato di fare, molto semplice, che raccoglie un po' questo, chiederemo nell'ultima domenica e poi per tutta l'ultima settimana che ogni detenuto possa scrivere un biglietto su un prestampato molto semplice in cui metta il suo nome e il nome delle persone care, con l'idea che tutti questi biglietti possano essere raccolti in una cesta e consegnati al Papa e portati in Santa Marta, in modo che questo segno di comunio e di vicinanza possa esprimersi anche attraverso questo segno molto concreto. C'è euforia perché si ha la consapevolezza che il Papa nei discorsi che ha fatto, nei segni che ha posto nel suo pontificato, conosce molto bene la realtà della sofferenza del carcere e delle marginalità, per cui sentono il Papa come qualcuno che li conosce, li conosce molto bene. Racconto una cosa molto semplice, abbiamo chiesto all'altro cappellando Roberto di scrivere una preghiera che potesse accompagnare questi ultimi 15 giorni. Abbiamo iniziato ieri a leggerla e questa preghiera ha un titolo singolare, Aspettando un amico. In fondo il Papa è sentito come un amico, una persona di famiglia, anche se penso pochissimo nessuno fosse l'ha incontrato ancora, ma lo si sente come di casa, come uno con cui puoi quasi dare del tu. E anche quelle lettere che sono trapelate sui giornali dicono una facilità nel dire ciao Francesco, piuttosto che ciao Papa, per dire questa amicizia forte che sento molto vivi detenuti e che tutti anche gli operatori del carcere sentono con affetto, sia gli agenti, i educatori o gli operatori sanitari. Anch'io l'aspetto con grande attesa proprio perché Papa Francesco attraverso le sue parole ha manifestato la verità del carcere, la verità della sofferenza, la verità anche dei grandi doni che nel carcere si possono sperimentare attraverso l'incontro con le persone, i gesti di solidarietà, di condizione tra i detenuti, la grande cura che tante persone del volontariato entra in carcere e si mette a disposizione di queste persone e non ultimi, anzi per primi, i parenti, le mamme, le moglie, le famiglie che sono l'altra parte che vive la carcerazione e diventa un esempio anche luminoso. Papa Francesco l'ha ricordato più volte, la stima verso queste mamme che nonostante il giudizio, la fatica, la sofferenza non lasciano da soli figli e anche io quando telefono a casa di queste mamme senti questo amore che supera le sbarre, che supera il reato, che supera la situazione di fragilità del proprio figlio. La scelta che abbiamo fatto per prepararci all'arrivo del Papa è stata quella di conoscere gli interventi che altri Papi e Papa Francesco hanno fatto nel corso degli anni nei vari carceri e sono uscite delle parole straordinarie. Per otto domeniche abbiamo letto queste parti molto brevi nelle messe della domenica e poi riprese nei piccoli gruppi lungo la settimana durante un rosario, durante un corso della Bibbia piuttosto che una messa che viene celebrata. Ad esempio le parole magnifiche di Giovanni XXIII che andò nel 58 a vittare il carcere di Regina Celi e come lo ricordiamo tutti per il discorso alla luna, di quella bella sera, così qui ho usato tre parole in croce ma straordinarie. Sono venuto a mettere i miei occhi nei vostri occhi, il mio cuore vicino al vostro cuore. Oppure il grande intervento di Papa Razzi, il Padre Benedetto, che ai giovi di Casal del Marmo ha parlato della libertà con due esempi facilissimi. La libertà come un trampolino che ti permette di lanciarti nell'amore di Dio nella vita oppure un piano inclinato che ti fa perdere la dignità e ti squalifica. Ho anche l'intervento straordinario di Papa Francesco in Bolivia in cui si è presentato dicendo chi sono io? Io sono un peccatore pentito e questo ti posso raccontare che il Signore con me mi ha dato questo dono del perdono, la sua presenza e così voglio che anche voi conosciate questo dono. Sicuramente la visita di Papa Francesco lascerà tanto entusiasmo, tanta gioia e nel contempo permetta alle persone di fare un piccolo cammino interiore. Questa visita così caricata di emozione ma che comunque porterà anche i suoi parole, i suoi gesti, ci sono sempre degli episodi molto semplici per cui una carezza, una stretta di mano, uno sguardo, una lettera a cui c'è una risposta e tutti questi segni sparsi nel carcere porteranno sicuramente a dare quella cosa che il carcere ha bisogno, la speranza di non chiudersi anche se un carcere è chiuso ma di guardare al futuro con speranza. Il Papa viene a portare quello. Mi permetto una nota personale, vorrei dare al Papa quando lo vedo all'ingresso dei fazzoletti di carta perché lei sta arrivando ad asciugare tante lacrime perché possano trovare il sorriso.